Caccia le varianti, è un po' come il tracciamento dell'anno scorso che si sarebbe dovuto fare a tappeto a caccia degli infetti, più o meno vale questa equazione professore, per questo è importante fare sequenziamento? Il sequenziamento quanto più possibile, tenendo conto che purtroppo il sequenziamento costa, un'analisi di sequenza costa 10 volte un tampone per renderci conto e la processività è di qualche decina di analisi al giorno, non di mille analisi al giorno. Detto questo, sui casi sospetti, il sequenziamento ci dà grande informazione. Il sequenziamento genomico delle infezioni dovuti alle varianti del Covid-19 potrà aiutare gli studiosi a capire l'evoluzione del virus in questa nuova fase della pandemia. Anche il professore Liborio Stupia, direttore del Laboratorio di Genetica Molecolare dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara e di questo parere, lo ha detto ieri, sera in diretta su Reteotto durante la nuova puntata di Pronto Medicina Facile, la trasmissione curata e condotta da Paolo Castignani, che è stata interamente dedicata alle varianti al SARS-CoV-2 che stanno destando sempre maggiori preoccupazioni. Il professore Stupia ha risposto anche alle numerose telefonate giunte in redazione e nel corso del programma medico-scientifico ha approfondito aspetti importanti come quali e quante sono le principali varianti al virus della pandemia. Tutti i casi di variante sono riferibili a persone che avevano viaggiato? Noi a Chieti abbiamo trovato un caso di brasiliana e lì era un paziente che veniva dall'Umbria dove sapevamo che c'era un focolario. Infatti c'era stata attenzionata dai colleghi della medicina di Chieti dicendo attenzione perché questo è un paziente che viene dall'Umbria, per cui abbiamo cercato la brasiliana e l'abbiamo trovata. Quindi ne sono stati trovati pochissimi e in tutti è stato possibile tracciare la provenienza. Sull'inglese andare a sapere qual è stato il paziente zero è pressoché impossibile, come pure è difficilissimo capire perché proprio da noi. Io posso giustificare perché Pescara rispetto all'Aquila, perché c'era l'aeroporto con i voli diretti da Londra, ma perché l'Abruzzo rispetto a tante altre regioni che hanno voli diretti con Londra, noi non ce lo riusciamo a spiegare.